La musea è come quell'altro? Eh sì, è come questo, come quell'altro. Spaccheggiato dove c'è la sua? Non c'è nessuna macchina. No, l'altra parte. La scola mi rola. La scola mi rola. Che cosa faremo però allora! Ilothec Adelaforte! Chiaragia mi bambino, metterà. Grazie inука! Fa male non dovete anche. demographics graduating. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.